È un'azienda che produce specialità alimentari, abbiamo a catalogo circa 800 referenze, abbiamo a catalogo e ci occupiamo del servizio per tutto quello che è Oreca a livello Italia. Dall'hotel, ristorante, pizzeria, mensa, tutti quei clienti che comprano il nostro prodotto e poi lo trasformano per dare da mangiare ai propri clienti. Presentiamo due cose molto nuove che sono una linea Evolution, un nuovo metodo di pastorizzare il prodotto e presentiamo una panna cotta in scatola già pronta che basta agitarla per averla in monoporzione e due sughi di pesce che è un sugo di scorfono e un sugo di cernia, già anche preparati, molto buoni. Noi ci speriamo tanti in questa manifestazione, sperando che ci porti tanti nuovi contatti per il nostro canale. Qualcosa abbiamo trovato, qualcosa è passato, speriamo che ne passi qualche di un altro da qui alla fine della fiera. È fondamentale, se noi non siamo innovativi chiudiamo l'azienda, chiudiamo di Torra. Per essere sempre un passo avanti presso gli altri dobbiamo sempre essere innovativi. Il mercato sta cambiando tutti i giorni, è velocissimo il mercato nel modo di cambiare e Biro Atrasio speriamo che ci aiuti a capire queste esigenze dei nuovi clienti che frequentano questa fiera.